Attenzione si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni o salire o scendere quando non sono completamente fermi. Rispettiamo il distanziamento e il corretto utilizzo della mascherina prima di salire sul treno, agevoliamo l'uscita dei passeggeri in discesa. Grazie per la collaborazione. Attenzione, treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno su Furtano linea 5, 24, 5, 6, 1, di Trenord, proveniente da Varese e diretto a Treviglio. Delle ore 17.32 è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno di transito ordinario 2 allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, il treno di transito ordinario 1 allontanarsi dalla linea gialla. Il treno di transito ordinario 1 allontanarsi dalla linea gialla. Il treno di transito ordinario 3 allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni.